La scrittrice libanese Jumana Dad è stata nominata dal sindaco di Napoli, ambasciatrice onoraria della cultura e dei diritti umani della città di Napoli nel Mediterraneo. Giornalista e scrittrice, vincitrice di numerosi premi internazionali in entrambi i settori, Jumana Dad è attivista per i diritti della donna nella società araba contemporanea ed è nota per diverse recenti pubblicazioni anche in Italia. Come portare avanti le voci delle persone in queste due città, delle persone che non hanno spesso la possibilità di farsi ascoltare, delle persone che stanno forse avendo delle esperienze difficili, che hanno bisogno di speranza, che hanno bisogno di aiuto, che hanno bisogno soprattutto di ascolto, credere in un futuro migliore e anche imparare da loro. La promozione della pace, la difesa e l'attuazione della Costituzione e le relazioni internazionali fanno parte infatti delle deleghe mantenute in prima persona dal sindaco e questa nomina rappresenterà un maggiore impegno verso la riduzione delle disuguaglianze e la promozione di ragionamenti culturali volti a favorire lo scambio fra popoli e le relazioni di pace, il dialogo e l'estensione dei diritti, in particolare nel contesto del Mediterraneo. Napoli deve assumere sempre di più un ruolo internazionale, in particolare nel Mediterraneo. Come città dei diritti, della promozione della pace, dell'inclusione, della contaminazione culturale, città laiche e non oppresse da escurantismi. Quindi ci vogliamo aprire al confronto e soprattutto unire le persone che vogliono lottare contro le ingiustizie. Poi questa collaborazione sarà ricca di contenuti concreti, l'abbiamo già detto poco fa, da incontri che si faranno nelle università e nelle scuole, libri, mostre, concerti, convinti che la cultura sia il miglior percorso rivoluzionario per liberare i popoli dalle oppressioni e dalle appartenenze schiavistiche.